Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e oggi volevo fare un po' il punto di tutte le mie letture fino a metà anno, cioè fino più o meno adesso che siamo a inizio luglio perché prima che scappiate tutti a gambe levate perché io che parlo di 30 libri significa almeno 6 ore di video volevo semplicemente fare un po' un recap perché non ho fatto il wrap up quest'anno questo non sarà un video wrap up ovviamente perché sarebbe una follia volevo fare un po' il punto proprio perché ci sono un sacco di libri dei quali non vi ho parlato chiaramente saranno recensioni, che neanche definirei recensioni ma giusto qualche spunto sui sentimenti che ho provato leggendo o rileggendo questi libri e insomma volevo proprio parlarvene, insomma giusto da prendere e ripartire insomma magari dal mese prossimo ricominciamo con il wrap up boh vediamo sono tanti, ci sono tante letture delle quali vi devo parlare quindi insomma prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, attivare la campanellina per essere sempre aggiornati e aggiornate quando arriveranno nuovi video, se arriveranno nuovi video prima che vengano fatte segnalazioni alla polizia di youtube perché non sono così attiva in questo periodo e poi ricordatevi anche che nell'info box trovate anche il mio link a ko-fi se volete offrirmi un caffè simbolico e sostenere il canale trovate i link ad amazon se volete acquistare tramite i miei link di affiliazione che chiaramente mi danno una mano anche in quel modo più tutti i link ai miei social dove potete trovarmi al di fuori di youtube dove sono molto attiva soprattutto su instagram gli altri, vabbè bene direi di prendere il telefono e aprire goodreads perché io ho la memoria di un uccellino quindi non mi ricordo certamente tutti i libri che ho letto da inizio anno direi di andare nella questione della sfida perché fa il recap di tutte le letture che ho fatto ad ora goodreads mi dice che ho letto 33 libri su 50 che mi ero premessa di leggere quest'anno però sono di più ve lo dico già alcuni perché proprio non c'erano su goodreads non c'erano presenti le schede quindi non le ho potuti segnare altri perché sono riletture e quelle dove avevo già fatto la recensione magari in anni passati non sono stata ovviamente a segnarli mentre ad alcuni ci sono quindi direi di partire dall'inizio dell'anno il primo libro che mi risulta è The Starless Sea cioè Il mare senza stelle di Erin Morgenstern anche se in realtà io l'ho finito gli ultimi giorni di dicembre quindi vale ancora per il 2019 anche perché The Starless Sea io ve lo dico, ve lo ripremetto eccetera eccetera è un libro a cui ho dato 5 stelline è un libro che mi è piaciuto da morire e io penso seriamente sono seriamente convinta che sia uno dei migliori libri che siano usciti negli ultimi anni e che sicuramente rimarrà uno dei libri migliori dei prossimi almeno 10 quindi insomma poche aspettative ma sta arrivando in Italia quindi bene così il secondo libro che risulta dalle mie letture è Le città perdute cioè La luna nera number one di Tiziana Traina o Traina non so come si dica al quale ho dato addirittura tre stelline ok ne ho un ricordo così pessimo che effettivamente forse tendo ad abbassare il rating Le città perdute ha una recensione dedicata che vi linko da qualche parte e male, 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 male nel senso buone idee buttate completamente nel cesso potremmo dire con tutto il rispetto per ciò che è stato tentato di fare mi aspettavo molto sapete che il tema della stregoneria delle streghe e della caccia alle streghe in particolar modo in Italia è una tematica al quale io sono visceralmente legata tenterò di portare avanti il più possibile anche con nuove puntate del podcast sulla figura della strega male male no cioè no così no così terzo libro invece del 2020 per me è Of Courses and Kisses di Sandia Menon che è la stessa autrice di Wendy Imple, Matt Richie eccetera eccetera io l'avevo letto perché era un periodo dove non riuscivo tanto a leggere volevo una cosa super leggera questo è un romance young adult ha a che fare con questioni di famiglia infatti la nostra protagonista è una ragazza indiana che frequenta però un college prestigioso non mi ricordo neanche se in Inghilterra o in America ma non è importante è un romance carino leggero che va preso esattamente per quello che è io trovo sempre carina e divertente la scrittura della menonna quindi leggo i suoi libri con le aspettative che li riguardano insomma io gli ho dato tre stelline direi non è nulla di eccezionale è stato carino di intrattenimento ha fatto il suo insomma e ovviamente da un libro del genere non potevo che passare a un libro come I ragazzi della Nickel di Colson Whitehead e allora premessa 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 io avevo letto La Ferrovia Sotterranea che mi era piaciuto tantissimo l'ho trovato molto 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 bello e vabbè Colson Whitehead scrive benissimo mi piace moltissimo il suo stile di scrittura ed è chiaro che le tematiche che affronta siano necessarie e anche molto interessanti anche nelle pieghe che riesce a tirare fuori attraverso le sue storie e Alla Ferrovia Sotterranea ho dato cinque stelline sono abbastanza convinta di avergene dato cinque i ragazzi della Nickel che è piaciuto a tutti e non che a me non sia piaciuto è stato un libro molto doloroso ed è molto bello è veramente magnifico ed è veramente un libro che racconta una storia molto toccante ed estremamente necessaria per tanti versi anche e soprattutto questione di cronaca io però vi devo dire una cosa in grande sincerità ovvero che ho preferito la Ferrovia Sotterranea nonostante quest'anno ovviamente abbia vinto qualunque cosa questo romanzo io purtroppo non so come dire sono questioni che leggendole mi colpiscono sempre molto e anzi io ci soffro parecchio quando leggo queste storie però quando ho letto i ragazzi della Nickel mi è sembrato che l'impatto emotivo non mi raggiungesse così forte come magari in altri libri e non lo so è stato stranissimo a questa sensazione un libro molto bello molto intenso assolutamente necessario cioè io non riesco a capire perché è un libro così non mi ha rotta dentro come io mi aspettavo ed è molto strano quindi non lo so io gli ho dato tre stelline e mezzo quattro stelline ed è più colpa mia che sua chiaramente però non lo so non sono riuscita ad uscirne distrutta cosa che mi aspettavo questo non toglie nulla all'intensità del libro all'intensità della storia e anche alla brillantezza che riesce a trasmettere la scrittura ma forse perché in questo caso molto più che nella storia precedente c'è quasi una sensazione quasi giornalistica nel reportare questa storia non lo so non lo so bellissimo ve lo suggerisco tutto assolutamente va letto i ragazzi della nicola è una storia che vi suggerisco tanto però boh vabbè e poi visto che all'inizio dell'anno io a gennaio ho praticamente chiuso con le letture magnifiche dell'anno anzi spero di no e spero di continuare a farne di altrettanto magnifiche ho letto Piranesi in anteprima di Susanna Clark il mio commento la mia recensione è l'umanità non è pronta non so come dirvi io mi sento molto fortunata di averlo già letto perché prima posso parlarne anche ai muri per i prossimi mesi sono molto contenta che arriverà anche in Italia e Piranesi è un libro stranissimo è un libro alienante è un libro geniale per tanti versi e non so come dire è un gioco dentro il gioco dei giochi e non saprei neanche è c'è incredibile è un libro incredibile Susanna Clark che io amo perché Jonathan Strange e Mr. Norrell è uno dei miei romanzi preferiti si è superata qua ha proprio detto vabbè qua mettiamo giù il carico da 90 facciamo un libro assurdo e pazzesco e tutto in questo libro riporta l'illusione sulla quale si fonda persino la scrittura persino i personaggi persino tutto ciò che succede è il libro migliore dell'anno insieme al mare senza stelle entrambi secondo me di una validità di una potenza evocativa emotiva immaginifica pazzeschi non vedo l'ora che lo possiate leggere ho letto anche ovviamente tante graphic novel quest'anno infatti il prossimo titolo è quando tutto diventò blu di Alessandro Baronciani al quale io penso di aver dato quattro stelline no cinque addirittura vabbè ero generosa forse ero un po' vulnerabile quel giorno devo dire che forse ne avrei dato un in meno Baronciani scrive questa storia che fondamentalmente parla di ansia depressione attacchi di panico cose ovviamente con le quali io mi devo confrontare tutti i giorni e quindi che comprendo molto bene e il modo in cui viene raccontato all'interno di questa graphic novel secondo me è efficace è potente e rende molto bene il senso di alienazione che purtroppo queste malattie mentali ti donano quindi sì e lo suggerirei soprattutto non a chi soffre di queste cose come nel mio caso ma lo suggerisco molto a chi non ne ha un'idea di che cosa significhino perché non è tanto un volume che ti dà il compitino ti restituisce insomma tutta una serie di ragionamenti su questo su questo funziona così così anzi però riesce a rendere molto bene il dramma emotivo che ogni persona che soffre di almeno una di queste cose vive la difficoltà nel parlarne e la difficoltà nell'interazione con l'altro e su questo è molto efficace secondo me restituisce molto bene le dinamiche che vivono le persone che soffrono di depressione ansia attacchi di panico eccetera quindi absolutely continuando siamo secondo me attorno a febbraio altra lettura che è Igio Vascego la mia casa dove sono ve ne ho già parlato nel video delle autrici afroitaliane Igio Vascego è diventata una delle mie autrici preferite in pochissimo tempo perché è pazzesca scrive benissimo è super ironica è divertente è leggera anche quando affronta cose oggettivamente atroci e lo fa con una capacità davvero disinvolta di raccontare e raccontarsi amirevole insomma davvero mia nuova autrice italiana preferita sotto ogni aspetto quindi assolutamente partite da questo peraltro vi consiglio assolutamente di partire dalla mia casa dove sono per capire e inquadrare tutta la questione dell'identità che è una cosa che chiaramente hijab ha affrontato e ha vissuto sulla propria perle e visto che sto leggendo anche altro di lei chiaramente questo è un punto di partenza qua si ragiona su quello e poi si vede che nel corso del tempo ha avuto anche molta più libertà sulla scrittura sulle tematiche della sua scrittura eccetera anche se tornano molto spesso a questioni simili quindi ok dopo la mia casa dove sono ho letto future o future il domani narrato dalle voci di oggi che è un volume di racconti è una raccolta di racconti curato proprio da hijab ascego dove ci sono tante autrici tra cui anche esperanz ripanti che insomma altra figura che a me davvero piace molto seguire non vedo l'ora di leggere tante altre cose da parte sua è una raccolta di racconti che affrontano chiaramente il tema dell'identità partendo da una dimensione passata presente ma guardando sempre al futuro e alcuni racconti sono magnifici veramente molto intensi molto belli altri non sono all'altezza secondo me di quelli migliori però comunque nel ciclo narrativo assolutamente si inseriscono perfettamente e rappresentano anche tante voci con realtà dimensioni cose che affrontano molto diversi quindi io ve lo suggerisco molto anche magari per i primi approcci alle autrici afro italiane assolutamente passo a un altro volume che so che è amatissimo da tante persone per me è stato ok che è This is how you lose the time war di Amal El Motar che a livello stilistico è impressionante la scrittura di El Motar è pazzesca è veramente molto lirica molto vicina a qualcosa che ha più a che fare quasi con la poesia che col testo ha davvero una dimensione lirica altissima per raccontare una storia sci-fi che è assurdo però c'è un però cioè io mi aspettavo una storia che parlasse soprattutto del mondo sci-fi nel quale ci inseriamo invece questa è una storia è un carteggio tra due persone appartenenti a fazioni diversi che man mano diciamo si innamorano quindi quella nella quale ci inseriamo è fondamentalmente una storia d'amore è un romance ambientato in una dinamica sci-fi ok fantascientifica e per quanto io ho un problema nel senso che io non capisco le storie d'amore cioè perché dovrei leggere le storie d'amore ma questo è un mio limite quindi alzo le mani e avrei voluto sapere molto di più del mondo del conflitto di tutto il resto della storia d'amore a me fregava poi nulla ma non perché non sia una storia d'amore molto bella da seguire anzi è molto intensa molto poetica e assolutamente nelle sue dinamiche super drammatica eccetera è scritta molto bene ma personalmente volevo più il resto ma perché io non capisco dei limiti personali molto grandi e quindi è colpa mia anche stavolta devo dire è scritta molto bene molto intenso avrei voluto vedere anche il resto personalmente però mi raccomando dategli una possibilità perché secondo me è veramente una forma e una storia molto interessante quindi quando esci in Italia fatelo ho letto in seguito anche un'altra raccolta di racconti di autrici afrodiscendenti ma non solo in questo caso che si chiama Pecore Nere ci sono quattro autrici tra cui Igi Abasceco Laila Uadia eccetera eccetera che all'interno della raccolta scrivono due racconti a testa sempre che hanno a che fare con l'identità sempre a che fare con che cosa vuole dire avere la pelle nera oscura in Italia quindi la dimensione nella quale ti inserisci ma non solo e alcuni davvero magnifici alcuni mi sono piaciuti moltissimo e in questo caso ho scoperto un'altra autrice che voglio approfondire sempre di più che è Laila Uadia perché anche lei scrive davvero magnificamente e quindi infatti poco dopo arriverà uno dei suoi romanzi dopo Pecore Nere ho letto Chain of Gold di Cassandra Clare Cassandrona nazionale allora che dire follettine follettini io non saprei cosa salvare di questo libro c'è una recensione lunghissima che vi lascio ovviamente Chain of Gold potrebbe essere definito la telenovela s'argentina nel mondo dei demoni che a quanto pare non contano nulla famiglie chi si mette con cosino ma cosina che vuole stare con cosino ma poi c'è la cosina che poi dopo non si capisce it was wild wild ma wild non in senso buono e quindi no raga cioè non lo so da un lato apprezzo il fatto che Cassandra abbia completamente eliminato la parte fantasy cioè o comunque eliminato è talmente marginale che non conta nulla perché almeno si è tolta il superfluo intanto alla fine nessuno interessava della parte fantasy o comunque della parte urban fantasy di questa di questa saga però è inaccettabile secondo me tra l'altro secondo me anche a livello di scrittura non è migliorata mai è una cosa imbarazzante personaggi imbarazzanti vabbè basta ci ho girato una recensione su sto brobrio e come sempre peace out è la mia opinione se a voi è piaciuta nessun problema dopo Chain of Gold ho letto anche Notes and Crosses di Mallory Blackman e anche in questo caso c'è una recensione super corposa sul canale che insomma vi invito a andare a vedere anche solo per spunti è spoiler free ovviamente come tutte le recensioni tranne quella della Cassandra vabbè morale della favola Notes and Crosses è una delle letture migliori di quest'anno in generale mi è piaciuto tantissima è una distopia super intelligente efficace nel trasmettere quello che voleva trasmettere io trovo la Blackman davvero molto brava a fare questo quindi insomma vi rimando alla recensione perché ne parlo davvero nel dettaglio e vi consiglio assolutamente di leggerlo soprattutto per questioni che hanno proprio a che fare con questioni razziali con questioni etniche eccetera e insomma viene rappresentato in un modo talmente intelligente in questo volume che secondo me destabilizza tantissimo lettore e questo è il suo metodo più utile ok poi ho letto parità in pillole di Rene Fakeris e che dire follettine e follettine gli ho dato due stelline perché perché me l'avete chiesto in tantissimi per questa cosa qua mi imbarazza anche un pochino parlarne allora non so come dire il modo in cui vengono esposte certe tematiche secondo me non è corretto perché ci sono tante cose scorrette o almeno che io non condivido quindi questo già di per sé per me è un modo per abbassare il rating tantissimo altro problema è che la scrittura è insosportabile per me cioè ehi sorella ehi ma ora ehi tu cioè ehi ehi ma no e soprattutto il mio problema è che io proprio non condiviso questo cioè e poi sinceramente si inserisce in tutta quella serie di volumi introduttivi a un femminismo molto basilare concettualmente povero e molto superficiale che sinceramente a me non insegna nulla di nuovo e soprattutto del quale non condivido l'approccio che è molto liberal molto ehi io ho un cioè non so come dire io vado da un'altra parte in pratica e non non sono completamente d'accordo con ciò che viene detto non sono d'accordo con lo stile e sinceramente non capisco la necessità di fare l'ennesimo volume femminismo che sia inserito come lezioni di femminismo basilari quando ce ne sono già tantissime e già anche gli altri non è che basta poi ho letto invece una cosa bellissima che è Incanto storie di stregoni e di scienziati di Michele Bellone che è un volume che associa due mondi che sembrano appartenere a universi paralleli a galassie che non si incontreranno mai ovvero il mondo del fantasy quindi della scrittura dell'immaginazione eccetera e il mondo della scienza degli scienziati e delle teorie scientifiche e come queste due cose a un certo punto possono o non possono incontrarsi o come da una parte scientifica si riescono a spiegare alcune cose legate alla mitologia al folklore al fantasy eccetera eccetera è un saggio ma è estremamente accessibile quindi ve lo suggerisco tantissimo perché davvero ripercorre alcune delle tematiche più importanti all'interno del fantasy dalle creature la parte sulle creature secondo me è la migliore quella fatta meglio e proprio quella più efficace ma non solo sulla magia sugli effetti naturali è veramente un volume prezioso e accessibile quindi chiunque può leggere questo saggio fondamentalmente allo stesso tempo anche questo modo di riuscire a interpretare e a non penalizzare né a invalidare la visione del fantasy che ovviamente è una dimensione che ha una plausibilità che non deve per forza appoggiare solo su teorie scientifiche so che ci sono i lettori di fantasy dove se tutto non è plausibile tutto non è spiegabile in termini scientifici non accettano alcune regole io sono un po' a metà trovo che la troppa libertà sia una condizione che non infila e non inquadra alcuni sistemi magici ma non solo in alcuni paletti che sono necessari per renderli efficaci allo stesso tempo penso che il mondo fantasy debba avere più libertà possibile di immaginare e di immaginarsi però questa coniugazione tra questi mondi apparentemente opposti quindi della teoria scientifica del rigore della spiegazione della ricerca eccetera eccetera e quella del fantasy che fondamentalmente alla fine nel rigore nella ricerca si muove è veramente un saggio appassionante molto interessante e anche intelligente proprio perché riesce a raggiungere tramite i riferimenti alla cultura pop e non solo tante persone e anche con uno stile più che comprensibile e chiaro quindi insomma se non l'avete ancora fatto recuperate incanto vado avanti perché poi ho letto dopo un po' di tempo che lo rimandavo The Ginever Deception di Kirsten White Kirsten White sapete che io la amo lei è una delle mie signore nel pantheon delle mie autrici preferite ha scritto And I Darken che è una delle mie serie preferite ha scritto Elisabeth Frankenstein With Ten e quindi insomma ero molto curiosa di questa sua rilettura del ciclo orturiano dal punto di vista di Ginevra allora contando che a me Ginevra sta sulle palle parecchio ma proprio a dei livelli inauditi era un po' il motivo per cui lo rimandavo in realtà secondo me il modo in cui la White imposta questa storia è estremamente intelligente è estremamente intelligente e tra l'altro è anche molto interessante la chiave di lettura un po' gomblotto con cui lei inserisce la figura di Ginevra accanto a quella di Re Artù e seguiamo un po' questa storia e tutti gli intrighi che ci stanno dietro buonissima secondo me l'impostazione c'è un problema però grosso e non da poco si vede soprattutto nella prima parte secondo me che la White aveva in mente di scrivere un romanzo pazzesco lunghissimo con mille risvolti e ci riesce bene nella prima parte a fare reggere tutto quello che voleva mettere in piedi poi a quanto pare ve lo giuro qua c'è stato un editor che ha preso la sega elettrica perché non si spiega ci sono proprio delle parti che sono tagliate si passa al secondo capitolo senza che sia conclusa fondamentalmente una scena o conclusa in due parole e questo è proprio un problema di editing perché si vede che secondo me hanno proposto alla White queste sono ovviamente le mie teorie del gomblotto però è troppo evidente che c'è una prima parte che è strutturata in una maniera più White con tutta la sua complessità la sua voglia di raccontare eccetera eccetera poi man mano che si va avanti iniziano ad arrivare le accette dell'editing cioè questo doveva essere una storia per ragazzi con un target molto preciso bisognava andare più veloce bisognava in qualche modo passare oltre quindi e mancano tutte alcune cose di raccordo che secondo me avrebbero reso questo libro un libro della madonna oggettivamente perché scusatemi in fervor ovviamente cioè devo dire che inizialmente avevo letto molti pareri negativi quasi tutti negativi su questo libro e fino a metà libro io non riuscivo a spiegarmelo perché è un libro che secondo me ha ottime basi ottime idee ottimi spunti dinamiche credibilissime tutto bene poi però perde molti colpi ma perde molti colpi secondo me non per colpa o demerito dell'autrice ma proprio perché questo non doveva secondo me essere un libro per ragazzi o se lo doveva essere dovevano darle più spazio più tempo e più libertà e questa cosa mi ha un po' davvero demoralizzata verso la fine perché credo veramente nella bontà dell'idea nella bontà della sua scrittura come sempre perché c'è c'è tutta però ci sono anche delle sforbiciate di pagine tagliate scene decurtate della loro sensatezza e non lo so mi ha un po' delusa questa cosa però leggerò il secondo assolutamente perché secondo me l'idea è molto interessante e continua io voglio sapere cosa succede alla fine assolutamente infatti sta per uscire il secondo e quindi insomma seguirò seguirò e vi farò sapere credo di avere dato tre stelline e mezzo a questo libro quindi insomma dopodiché ho letto due graphic novel la prima si chiama Angela Davis ed è edita da Becco Giallo ripercorre fondamentalmente alcuni episodi biografici della vita di Angela Davis che è santa signora del femminismo potremmo definirla la disegnatrice Mel Zohar che a me piace molto come stile eccetera eccetera devo dire che è un volume carino per me non memorabile interessante nel fatto di riuscire a rendere soprattutto gli attriti e le difficoltà di una donna nera in un femminismo dominato da donne bianche di una donna nel movimento delle pantere nere o comunque nel movimento black dominato da uomini e tutte le difficoltà al fatto che lei sia sempre stata una persona che ci ha messo la faccia e il corpo in tutto ciò che ha fatto e questo lo rende magnificamente ecco devo dire fortuna che ho letto tutta Angela Davis prima prima di arrivare a insomma leggere il fumetto carino ma non memorabile secondo me e poi ho letto romanzo esplicito di fumetti brutti perché avevo letto prima la mia adolescenza trans romanzo esplicito secondo me è meno potente della mia adolescenza trans che a me è piaciuto moltissimo secondo me questo primo volume cioè che è la prima opera fondamentalmente pubblicata da fumetti brutti è molto trasgri interessante per alcuni versi però non riesce a essere né autentico né potente è un po' il 100 colpi di spazzola a tutti i costi quindi secondo me è meno potente meno anche proprio puro nella voglia di raccontarsi anche in estremo come invece è successo nella seconda graphic novel di fumetti brutti comunque gli ho dato tre stelline ti intrattiene è carino però ecco secondo me finora la cosa più potente che ho letto di fumetti brutti è la mia adolescenza trans ho letto poi che mi ha mandato Neri Pozza Rubide Bestie di Re del Bianco io lei la seguo su Instagram da almeno 5-6 anni e la trovo uno degli account più belli poetici intensi che esistano è una scrittrice americana molto giovane e devo dire che questo romanzo molto strano molto mccarpiano fondamentalmente è l'inseguimento di un'idea di un'idea di un ideale che fondamentalmente ti crolla addosso è un libro molto bello a me è piaciuto gli ho dato 4 stelline se non sbaglio anche se è tutto fuorché nelle mie corde però devo dire le prime 60 pagine secondo me di questo libro sono tra le più potenti che io abbia letto proprio perché c'è una tensione un'intensità nei personaggi nell'azione nella follia che man mano si crea e che porta poi a tutta la seconda parte del romanzo molto molto intensa e racconta fondamentalmente una storia americana di una campagna americana di una dimensione agricola americana al totale sfacelo dove nulla effettivamente ha più forse senso e anche la minimazione di sabotaggio diventa il senso stesso di tutta questa vita è molto bello se vi piace McCarthy se vi piace comunque questa narrazione di un'america verso lo sfacelo che è l'unico modo in cui riesco a vedere l'america purtroppo per me è un romanzo che dovete leggere assolutamente davvero super super intenso e come prima prova per me la del bianco ha spaccato è stata bravissima cioè è riuscita a scrivere qualcosa di fresco secondo me mettendo tutti gli elementi che non sembrano assolutamente né freschi né nuovi né mai affrontati nella letteratura americana ma riesce comunque a darne un'ottica molto contemporanea quindi assolutamente ve lo suggerisco oh poi passiamo a questo che sapete essere una delle cose che io attendevo di più quest'anno perché io ci sono rimasta davvero male cioè The Best Routed di Kiera Cass ovvero non so neanche come i promessi le promessi boh vabbè quello che è non so come allora da Kiera Cass ovviamente non ci si aspetta la qualità ma ci si aspetta del trash divertente di intrattenimento io volevo quella cosa lì e lei lo sa fare bene perché The Selection trash assurdo serie orrenda ma ti diverte nessuno può dire niente talmente assurda nelle sue robe che lei spinge con l'acceleratore ecco The Best Routed non lo fa The Best Routed è brutto è un libro brutto sotto ogni aspetto è una storia che tra l'altro inizialmente sembra un po' quella di ovviamente sulla falsariga del contest tra persone che diventeranno le favorite del re e forse le mogli del re e la nostra protagonista sembra in pole position poi non lo so tutto degenera degenera diventa noioso assurdo cioè nista love a caso qua la nostra cosina si innamora senza motivo del proprietario del paradiso della brugola io non ha nulla senso succedono tragedie e tu dici ma perché è successo ma chi se ne frega no male sono delusissima questa era la mia uscita trash dell'anno l'unica che attendevo male male ma male cioè male forte eh quindi niente nemmeno il trash mi hanno dato decentemente passiamo dalla kira a tutt'altro volume ovvero la quercia di Walt Whitman ovvero la versione della quercia di Walt Whitman illustrata da Brian Selznick le poesie della quercia non le avevo mai lette mentre di Walt Whitman ho letto ovviamente tanto altro però devo dire che in questo caso noi scopriamo la dimensione più intima affettuosa e queer prima che il queer esistesse o fosse accettato a livello diciamo mainstream e popolare Walt Whitman che fondamentalmente viene chiamato proprio il padre della patria il poeta dell'America del sogno americano in generale del senso dell'essere americano insomma è bello destabilizzante in questo caso le poesie secondo me sono molto belle per anche le loro immagini riferite assolutamente al collegamento con la natura all'intimità vissuta anche come una dimensione di estensione su ciò che ci circonda e come forse sia più facile rapportarsi alla natura quando queste cose che stai vivendo non esistono non possono esistere in una società che ovviamente incrimina l'omosessualità come devianza non è il miglior lavoro di Whitman e si vede che sono poesie recuperate tra l'altro in una maniera assurda eccetera eccetera bello ma non sicuramente all'altezza della miglior produzione di Whitman però devo dire che insomma il volume è molto carino ve lo suggerisco le poesie sono molto belle quindi insomma assolutamente da segnare però diciamo secondo me può essere un'introduzione a quella che è la poetica di Whitman per poi andare su altro poi in questo periodo che era in questo periodo io ero ancora in quarantena in lockdown e ho riletto anche Neverwhere di Neil Gaiman che per me è il romanzo migliore di Gaiman grande amore e ho riletto The Lies of Lockie Lamora cioè gli inganni di Lockie Lamora di Scott Lynch che vabbè adesso mi viene male a parlarne per tutto quello che è appena successo ma rimane una delle mie serie dei miei romanzi preferiti faccio fatica a parlarne ora perché è successo un gran casino e insomma non ne sono così contenta però ciò non toglie che rimane quello che è una grande serie e poi finalmente in questo periodo che l'avevo iniziato diverso tempo fa perché effettivamente a livello stilistico è un po' ostico è un po' macchinoso ovvero la festa nera di Violetta Bellocchio che racconta la storia fondamentalmente di una una squadra di reporter che ha vissuto un episodio orrendo online che cerca di riprendersi e di riallacciarsi mesi dopo quello che è successo andando ad indagare su un fatto di cronaca molto nascosto in una zona collinare montana molto sperduta questo ovviamente è un lavoro che per loro diventa anche un modo per confrontarsi con ciò che è successo in passato e ritrovare quello che effettivamente sono e li ha definiti nel corso del tempo a me è un libro che è piaciuto molto proprio perché secondo me è necessario che sia anche scritto in questo modo è un libro molto duro è un libro quasi aggressivo attraverso le sue parole è un libro che non perdona perché non è stato perdonato fondamentalmente è quella che ci racconta una storia distopica fondamentalmente cioè provare a pensare alla fine del mondo non come se fosse un fatto apocalittico gigante manifesto eccetera ma come se fosse una lenta ed inesorabile agonia che continua e si protrae all'infinito senza nemmeno forse venire percepita a sufficienza insieme a tutta questa storia noi seguiamo anche fondamentalmente i sentimenti e il dolore che hanno provato e provano tuttora i protagonisti ed è allo stesso tempo una storia quasi fuori dal tempo fuori da una dimensione reale ma inserita in questa dimensione rurale totalmente naturale dove ci sono queste comuni completamente pazze molto molto bello e ve lo suggerisco tantissimo dopodiché ho letto la mia prima volta My Lesbian Experience with Loneliness di Kabi Nagata che è un manga che racconta quando la nostra protagonista fondamentalmente si rivolge ad una escort e da lì però decidi di raccontarci perché è arrivata a quel punto ripercorrendo un po' tutta la sua storia biografica e il fatto che la sua sessualità non sia mai stata esplorata il suo orientamento sessuale in generale ciò che aveva a che fare con la propria sessualità è stato completamente annientato perché nella sua vita insomma ha dovuto affrontare una serie di difficoltà soprattutto familiari legate alle pressioni familiari legato anche alla sua depressione eccetera eccetera e anche forse perché la sua depressione è parte integrante di questo ciclo che non l'ha mai portata a confrontarsi con certe cose e allo stesso tempo è stata causata da questo mancato confronto è un libro molto intenso è un libro è un manga molto intenso che io suggerisco a chiunque perché è veramente bello intenso doloroso però allo stesso tempo viene anche vissuto con una certa ironia sempre con uno spirito invece positivo quando si arriva a una situazione come quella finale cioè come quella della escort è stato il frutto di un percorso sì duro ma anche molto consapevole da parte della nostra autrice che fondamentalmente ora sta vivendo invece la parte migliore di tutta questa situazione ci si confronta con un sacco di difficoltà dalla famiglia alla salute mentale al trovare la propria strada e non sapere assolutamente cosa si vuole fare oppure quando magari si capisce tutti gli ostacoli che ci si possono parare davanti molto molto bello e molto molto intenso quindi leggettelo assolutamente tra l'altro è appena uscito il secondo volume che sono storie legate a ciò che ha affrontato attraverso il primo e insomma ne parleremo poi presto vado avanti per parlarvi di un libro che vi ho suggerito nei suggerimenti queer di quest'anno ovvero Pantomime di Laura Lem allora questo è un libro che sinceramente ha molti difetti dal punto di vista della scrittura manca un editor e si vede ma a livello di intensità di personaggi soprattutto Mika mi è rimasto tantissimo nel cuore io gli ho dato tre stelline penso ma nella mia testa ne ha cinque solo per Mika Gray che è un personaggio che vale tutto vale veramente tutto è una storia sull'interessualità è una storia sui rapporti umani sui rapporti personali e poi c'è il circo è un win win cioè è bellissimo e no ve lo suggerisco molto soprattutto per la caratterizzazione del personaggio principale ve la suggerisco perché è una storia molto dura per certi versi ma anche di riscatto molto tenera realistica rappresentazione dell'interessualità in una maniera positiva e quindi dopodiché ho letto quello che abbiamo in testa di Sumaya Abdelkader che mi è stato gentilmente inviato da Mondadori e che è la storia fondamentalmente di una protagonista che si confronta sempre insieme al suo gruppo di amici alle sue figlie alla famiglia in generale in generale in ogni luogo insomma in tutto ciò che ha a che fare con la sua vita quotidiana col fatto di essere musulmana e quindi di portare il velo è un romanzo secondo me furbo da un certo punto di vista perché la domanda di fondo è perché si porta il velo soprattutto si confronta sulle difficoltà del portare il velo ma anche sul che cosa rappresenta il velo cioè è un simbolo di sottomissione è un simbolo identitario che cos'è no? soprattutto in un mondo dove noi siamo portati tendenzialmente a giudicare il velo come insomma qualcosa che viene imposto assolutamente in ogni caso e in questo caso secondo me attraverso episodi quotidiani anche molto molto condivisibili che accadono alla nostra protagonista riusciamo a seguire un po' il senso che ha questo libro ovvero fondamentalmente che una sola unica risposta non esiste ci sono le visioni personali e la relazione che hanno tutte le donne che indossano il velo con il velo e perché lo indossano ci sono risposte più semplici ci sono risposte magari immediate ci sono risposte invece più complesse ci sono non risposte e nessuno di questi viene mai visto come sbagliato e questo secondo me è molto intelligente all'interno di questo volume è chiaro che è anche purtroppo un modo in cui diciamo non ci si confronta mai con una risposta concreta però allo stesso tempo è il motivo per cui a me è piaciuta questa visione il fatto che non ci sia mai solo un modo di vedere la questione anzi diciamo che diventa anche un modo per riappropriarsi di questa questione indossare il velo come un gesto femminista è un gesto di affermazione del sé è molto interessante molto carino e ve lo suggerisco perché chiaramente è un libro leggero che tratta però di una tematica sulla quale magari ci si sofferma molto come persone occidentali che vedono il velo come solo un'imposizione quando così ovviamente non è in altri casi lo è ma soprattutto nei paesi occidentali tendenzialmente no e lo vedono tutti come una grande imposizione quando in moltissimi casi non lo è è vero che è una realtà di tanti altri casi ma non è sicuramente magari quella predominante nel nostro paese quindi insomma penso che sia un libro che da un certo punto di vista cerca anche di sfatare e di raccontare le difficoltà quotidiane quindi è sicuramente un libro che da un lato cerca di sfatare alcuni miti alcuni falsi miti e dall'altro invece cerca anche di raccontare l'esperienza quotidiana e le difficoltà quotidiane questo lo trovo molto utile quindi anche questo come vi dicevo anche prima visto che mi era piaciuta dentro Pecore Nere ho cercato qualche altro romanzo di Laila Wadia in questo caso ho letto un'altra sua raccolta di racconti che si chiama Se tutte le donne e in questo caso affronta la vita di tante donne diverse eccetto sociali diverse condizione sociale molto diversa tra di loro partiamo da una moglie di un'ambasciatore ricchissima che fa volontariato a una madre palestinese insomma situazioni davvero molto complesse molto distanti e in questo caso Laila Wadia riesce a raccontare come i contrasti culturali le differenze culturali fondamentalmente abbiano anche tante cose invece in comune e il confrontarsi con questi sentimenti diventa un modo un po' per unificare anche e far vedere come l'universo femminile appartenente anche a ceti sociali e relazioni insomma tutto diventa una sorta di filo teso che unisce tutte le storie molto molto bello molto appassionante sono racconti brevi quindi insomma riuscite a leggerlo con grande agilità il suo stile continuo ad affermare che mi piace davvero molto e quindi insomma vi suggerisco anche questo volume dopodiché ho riletto la graphic novel che mi è arrivata da Bao l'avevo già letta in originale però mi è arrivata Laura Jean continuo a lasciarmi di Mariko Tamaki allora Laura Jean è un volume secondo me molto carino soprattutto per la parte di disegni secondo me il disegno è in uno stile molto carino molto adatto mi piace che si giochi sempre su questi due colori pastellati che si giochi sempre su questo tono quasi tiffany e rosino e molto molto carini la storia secondo me è un po' strana cioè la storia secondo me non è così efficace perché per tutto il libro non riusciamo a capire perché la nostra protagonista continua ad amare Laura Jean quando Laura Jean la tratta malissimo ed è un po' inspiegabile questo aspetto però insomma continua a succedere evidentemente così però è una storia adolescenzale carina leggera ovviamente queer friendly perché si parla ovviamente di una coppia lesbica in questo caso carino dolce devo dire pensavo un po' di più inizialmente pensavo avesse dei risvolti interni o comunque un percorso di affermazione anche all'interno della relazione che avesse un po' più senso ma fondamentalmente Laura Jean non vuole stare in una relazione monogama e succo è quello mentre la nostra protagonista sì ecco secondo me manca un po' quella sorta di percorso di affermazione della nostra protagonista però è comunque una graphic novel molto molto carina se volete leggervi qualcosa di leggero assolutamente ve la suggerisco ed è anche esteticamente molto curata e molto bella vado avanti perché poi ho letto Cronache dalla polvere del collettivo Zoya Barontini che è una sorta di raccolta di racconti però è una mosaic novel ovvero ogni racconto fondamentalmente costruisce un tassello di una storia più grande che riusciamo a ricostruire ovviamente andando avanti man mano fino ad arrivare alla fine e dove alla fine ci sono delle sorte di personaggi staffetta o di luoghi staffetta che ritroviamo all'interno di diverse storie per me molto molto interessante è una storia estremamente necessaria per tanti versi soprattutto per chi vuole approfondire il colonialismo italiano in questo caso noi affrontiamo una serie di episodi vista da soldati italiani dalla resistenza etiope e non solo durante la dominazione fascista durante il periodo coloniale le atrocità commesse e non solo per chi assolutamente non sa nulla di colonialismo italiano in etiopia è un volume che vi consiglio perché riesce a rappresentare attraverso i personaggi che sono per lo più italiani molto bene quelli che potevano essere episodi abbastanza realistici e l'ho trovata molto interessante ed efficace alcune più di altre ci sono racconti che sono bellissimi davvero molto belli c'è Igia Bascego tra le varie autrici anche in questo caso ed è interessante vedere come all'interno del volume si raccontino le storie di persone soldati capitati insomma che non sapevano bene a cosa andavano incontro di come invece fosse un sistema molto costruito un sistema codardo un sistema atroce disumano violento repressivo come sia stato sistematicamente studiato nei minimi particolari insomma ve lo suggerisco se siete interessati ad approfondire questo aspetto della storia italiana a mani basse dopodiché ho letto un romanzo del quale avevo visto il film moltissimi anni fa che mi ricordo mi aveva colpita moltissimo che si chiama The Joy Luck Club cioè il circolo della fortuna e della felicità in italiano di Amy Tan racconta la storia di due generazioni madri e figlie di queste famiglie emigrate dalla Cina e che hanno ovviamente una seconda generazione tendenzialmente nata in America ma non solo che si confrontano quindi con questa doppia identità cioè l'essere cinese da un lato ma avere anche figli che si considerano più americani che cinesi e mostrare anche gli episodi della vita prima dell'arrivo in America e anche ciò che succede in America ciò che è successo in America che siano cose più contemporanee ci sono storie di divorzi storie di insomma rotture storie di crescita e anche storie magari dell'infanzia di queste ragazze come ad esempio il razzismo subito l'esclusione sociale insomma tante cose abbastanza dure ma mai dure quante quelle delle loro madri che hanno affrontato cose atroci è un libro molto duro molto triste ma sempre raccontato con uno spirito di comunità comunità molto forte e anche soprattutto solidarietà femminile comprensione femminile anche quando sembra impossibile è bellissimo davvero il film è molto molto intenso nel film io penso di aver pianto da un minuto uno a un minuto finale in questo caso piangete un po' meno ecco però devo dire molto bello molto scorrevole tutte le storie non sono tutte storie tragiche ovviamente altre sono storie ripeto magari di un divorzio quindi semplicemente si assiste allo sgrettolamento di una relazione e l'inevitabilità di questo avvenimento però devo dire che è molto molto bello e anche questo ve lo suggerisco tanto soprattutto secondo me è una voce di discendenza cinese assolutamente rilevante e insomma bella bella lettura poi ho letto La generazione di Flavia Biondi che è una graphic novel che racconta fondamentalmente del rapporto di una persona gay fuggita dalla provincia dove era stato rifiutato dal padre proprio per la cacciato di casa per la propria omosessualità che ritorna dopo diverso tempo e che viene praticamente accolto in questa sorta di matriarcato composto dalla nonna e dalle zie distante però dal padre e racconta un po' come sia difficile un po' riallacciare il rapporto come ci siano anche tutte fratture all'interno della propria famiglia che però li ha portati insieme in questa folle famiglia come tanti possono avere e come debba fare i conti invece con la parte più dolorosa della propria storia e molto carino secondo me davvero una graphic novel che riesce a rendere parecchio bene questi aspetti anche la difficoltà della provincia la difficoltà culturale la difficoltà familiare e di quanto questo sia doloroso da affrontare quanto a un certo punto ci si confronta anche con devo forse pensare a me stesso invece che cercare in tutti i modi di piacere con piacere alla mia famiglia e quando a volte invece la famiglia ti accetta più di quanto tu accetti te stesso te stessa e carino davvero molto molto efficace un bel ritratto della provincia italiana e il rapporto che può avere con l'omosessualità in questo caso magari un po' più idilliaca un po' più artificiosa di quello che potrebbe essere in realtà ma comunque efficace quindi anche questo per me è molto carina come lettura ve lo suggerisco io mi sto stupendo perché effettivamente quest'anno ho tendenzialmente fatto tutte letture molto alte cioè che mi sono piaciute molto eh infatti dopo passiamo a ogni volta che ti picchio di Mena Kandasami che mi è stato mandato da edizione O allora io come un po' scritto nella mia recensione su Instagram ho un problema quando si parla di libri che hanno a che fare con la violenza la violenza di genere l'abuso le relazioni abusive perché sono cose che fondamentalmente mi mettono di fronte e ti mettono di fronte come persona forse a una delle paure più grandi più viscerali che si vivono come donna quindi non è che lo fai mai con grande slancio no? sai che sarà doloroso sai che sarà molto intenso e ti partiranno dei sentimenti davvero quasi inconsapevoli no? però io mi sono ritrovata ad aprire questo libro un po' con riluttanza e tre ore dopo a chiuderlo come se la mia vita dipendesse dal finire questo libro perché è magnifico è veramente bellissimo e dedicherò sicuramente un contenuto a una recensione approfondita una storia che è sì cruda però non diventa mai insopportabile per il lettore diventa anzi un lungo ragionamento sulle dinamiche sugli aspetti impensabili della violenza e gli aspetti dove forse ti ci ritrovi senza essertene resa conto su come sia facile giudicarlo a posteriore come invece sia impossibile da decodificare in un momento isolato come la famiglia in questo caso non abbia dato un supporto vero e proprio alla vittima in una società che è quella Tamil dove effettivamente domina un certo tipo di visione della donna bello 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 proprio bellissimo e ve lo suggerisco proprio tanto perché tra l'altro si confronta anche con una questione che sinceramente mi sta molto a cuore sul fatto di avere di confrontarsi anche con una realtà di sinistra molto sinistra dove però queste cose sembrano impossibili pensabili invece la violenza non ha colore politico bellissimo bellissimo proprio dopo di che ho riletto Persepolis in questo periodo perché ne avevo voglia era tantissimo che non lo rileggevo almeno 4-5 anni quindi insomma ci tenevo a rileggere Persepolis per me rimane una delle graphic novel più belle intense che esistano insomma quindi se non l'avete mai letto non ve lo sto neanche a dire insomma Persepolis è un po' la base da cui partire soprattutto anche per conoscere un pochino la società iraniana per confrontarsi con alcune aspetti dinamiche quindi leggetelo direi che siamo arrivati alla fine di questa parte sicuramente mi sono dimenticata quelli che ho letto solo su Kindle che magari non ho segnato non ho ritrovato comunque ogni tanto leggo anche delle trashate che non segno ho fatto un po' di ricerca per i miei video se ti è piaciuto questo ti suggeriamo questo quindi effettivamente c'era parecchio trash che non ho nominato detto ciò insomma questo era un po' il mio bilancio tante cose positive quest'anno cioè inaspettatamente ho gran voti positivi per le mie letture quindi significa che sto diventando molto brava a schivare a gran voce le cose che tendenzialmente non mi piacciono avevo fatto un po' un bilancio su Instagram perché come già vi raccontavo nei vari video dei mesi precedenti sto cercando davvero di dare più spazio a letture di autori e autrici afrodiscendenti comunque in generale di autori e autrici di minoranze sia americane che inglesi eccetera eccetera e questo secondo me sta dando molti frutti proprio perché molte letture sono davvero molto belle e quindi sono anche molto contenta in questo caso poi meno fantasy del solito che però va bene insomma non è mai un problema perché ci sono davvero poche uscite che davvero mi prendono poi nel frattempo sto leggendo da quasi un mesetto Gideon la nona cioè Gideon the ninth che uscirà anche in italiano lo sto leggendo con calma perché con Gideon ho un po' un rapporto di quelli che non capisco se avete presente quei rapporti dove non capisci se ti sta punendo o se ti sta dando una gratificazione un po' quella sorta di senso masochistico che a me piace molto e sta diventando uno dei miei romanzi preferiti ma riesco a leggerlo veramente con grande lentezza devo ancora finire l'ultimo capitolo dell'attraverso a specchi ne parleremo presto insieme e insomma questo era un po' il recap delle mie letture fatemi sapere se qualcosa ovviamente vi ha incuriosito e vi piacerebbe che approfondissi magari tra le varie cose perché so che è tanti mesi che non parlo nel dettaglio delle varie letture fatemi sapere invece magari voi fino ad ora quali possono essere state le vostre preferite di questa prima metà dell'anno ci tengo niente io direi che per oggi è tutto ci sentiamo giù nei commenti per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao ciao